E saluto ragazzi, benvenuti in questo video, sono quest'amico Amici che vi parla E oggi siamo con la penultima parte, la quinta parte, mamma mia Dai su, speriamo almeno di trovare, speriamo almeno di trovare in questa parte i giocatori del Foggia Dopo aver trovato, gli è bello, gli è bello Tra virgolette Foggia, ma non l'abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aspettate un momento, che non è che hanno messo uno in più per caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ok Poi 8, 9 e 10 Questi ultimi 10 saranno dell'ultima parte Mamma mia Sono così, sono così Prima mettiamo anche il bomber Pietro IML ad aiutarci Aspettate Ok Come sempre vediamo da dietro i numeri Vediamo No vabbè Non ci credo Non ci credo Abbiamo 3 giocatori del Foggia Si vede qui il Foggia Il nome del Foggia No no vabbè Allora abbiamo Allora abbiamo Acqua Pandev Cristante Codice 3 giocatori del Carpi E 3 giocatori del Foggia a calcio Agnelli, Agazzi e Deli Braggio Braggio Sì Mi esce tutto prima Finalmente sono uscito La potenza del bomber IML Sta molto male Mi è uscito Braggio Braggio Sì Abbiamo trovato i primi 3 giocatori del Foggia Adesso è la ricerca di Mazzio Insieme agli altri due Bene I primi 3 giocatori del Foggia Finalmente 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 Dopo una parte di attesa Mamma mia 169 E F12 Vabbè sarà una squadra femminile Abbiamo Elander Anzi no questi tre li mettiamo insieme al bomber Così ci aiuteranno anche loro Abbiamo Elander Pisacane Rafael Codice La squadra della Sveruna Che è quella femminile E poi la squadra del Crotune Ok Mamma mia Restiamo un po' calmi Abbiamo trovato i primi tre giocatori del Foggia E andiamo Abbiamo 87 E 596 Non sono nessuno del Foggia Comunque allora Masiello Cibza Pellegri Doppio Codice La squadra del Del Carpi Dello stadio Renato Dallara 35.000 posti 313 E 714 Allora non sono nessuno Le Foggia comunque Abbiamo Wallace Musacchio Maximovic Codice 3 giocatori della Ternana E lo scudetto della Lazio Doppio Ok 635 Sì E andiamo Altri giocatori del Foggia Sì Andiamo Naggi Verde Gagliardini Codice Uh Lo scudetto della Roma Aspetta un momento che chiamo mio padre Ragazzi come fate Scudetto della Roma E Rubin Camborese E lo Iacono Questo è Rubin Mamma mia Rubin Mamma mia Mamma mia Due giocatori Due cose del Foggia Mamma mia 567 E C3 Uh Questo è il film del campionato MC3 E se aggiungi la M Qui c'è una figura del film del campionato Allora abbiamo Gio Pedro Rog Falcinelli Codice Icar Icar di vino Icar di vino Uomo derby La prima La prima che trovo di questa cosa Poi Uh Qua c'è Gigliotti Che c'è non da fare due o tre Merda Merda Tre giocatori dell'ascoli Mamma mia 679 E 681 Abbiamo Abbiamo Cacciatore Mario Rui Insigne Doppia Codice Tre giocatori Del Pescara E poi altri tre giocatori Del Pescara Ok Abbiamo 680 665 E 90 Ok Abbiamo 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 S3 Abbiamo Biraghi Gentiletti Caseres U Ex Vinto 5 scudetti 2 Coppa Italia E 3 Supercoppe Grande Caseres Codice Prima maglia Del Cagliari E poi tre giocatori Del Parma Ultime due Questa è la penultima Allora 314 E 697 Abbiamo Di Francesco Milik Eh purtroppo Si è infortunato Forza Arec Da Juventino Leiva Codice Tre giocatori Della Salernitana E La prima maglia Della Lazio Doppia Ultima bustina Di questa Penultima parte Allora 198 E 578 Ok Abbiamo Pezzella Leshert Gonzalo Gonzalo Riguain Il Pipita Gonzalo Riguain Aspettate un momento Ragazzi Eccomi qui Ritornato Gonzalo Riguain Uno Scuretto Due Coppe Italia Tra cui Una Vinta Con il Napoli E una Supercoppa Quella Vinta Contro la Juve Con il Napoli Abbiamo Codice Tre Gioratori Dell'Avellino E L'allenatore Della Fiorentina Stefano Pioli Ok Aspetta un momento Che Aggiusto Qui Le Fiorine Oh Esco L'aggiustare Perché Aspettate un Momento Va bene Le aggiusterò Dopo Comunque Bene Bene Ragazzi Bene Ragazzi Spero Che Questo Video Vi Sia Piaciuto Abbiamo Trovato Finalmente Due Figurine Del Foggio Eccola Qui Questa E' Stata la Prima Agnelli Agazzi E Dili Agazzi Ha Fatto Un Grandissimo Call Contro 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 Salernitana Agnelli Gioca Per La Maglia Perché Sare Tatuata Addosso Abbiamo Rubin Camborese E lo Iacono Ok Beh Ragazzi Spero Che Questo Video Vi Sia Vi 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 Iscrivetei Al Canale Ma Soprattutto In Tutto Tutto In Tutto Tutto In Tutto Tutto Ciao